Ciao Aris Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio Buon pomeriggio a te Aris, come stai? Noi ci siamo già conosciuti durante queste chiacchierate qui a Radio Incontro Sì, sto benissimo, grazie sono veramente contento che avete permesso questa intervista sono molto contento e siamo qui, dai Ecco, tu sei genovese gli origini genovese ne avevamo già parlato, ti ricordi? Sì, sì, sono nato lì, però ho cresciuto in provincia di Pavia E sei un cantautore, ma d'altra parte penso che la Liguria sia la patria dei cantautori, no? Sì, ce ne sono molti, è di importanza anche elevata Ecco, ce ne sono stati tantissimi e ce ne sono ancora, poi tutto è nelle vostre mani giovani, leve? Cerchiamo di fare il possibile io non credo di riuscire ad arrivare a tanto, però insomma il mio contributo lo do lo odiamo, sì Certo, questo è il nuovo singolo Noi Siamo Noi ed è proprio nuovissimo Sì, è il primo lavoro del nuovo album che uscirà e insomma Noi Siamo Noi Noi Siamo in ogni cosa Il brano Il brano vuole far trapelare la nostra semplicità perché il mondo è un po' complicato, no? E quindi in questo brano voglio semplificarlo un po' e magari noi rivederci come in una tazza di caffè la mattina nei piccoli gesti che noi abbiamo e facciamo durante il giorno Io sono molto d'accordo con te, sai su questo? Davvero Esatto Davvero nei piccoli gesti quotidiani Anzi no, questo nuovo singolo Sì, il nuovo singolo che farà parte del nuovo album Ecco, che farà parte del nuovo album perché il precedente era Io sono Alieno che tra l'altro è arrivato fra i primi dieci esordienti Italy Sì, sì, sì infatti sono veramente soddisfatto non ho parole per quanto riguarda insomma gli obiettivi che mi sono prefissato li sto conquistando tutti piano piano e devo dire che sono molto molto soddisfatto Noi ci siamo sentiti invece per l'altro singolo Non puoi capirti se non mi sbaglio Esatto che apparteneva quindi a Io sono Alieno? Sì, certo certamente Ecco, e con quel singolo sei arrivato in alto, vero? Eh, abbiamo scalato un sacco di classifiche tra l'altro ho visto il mio nome a fianco a grandi della musica come Elisa, Emi Schilla insomma Ha un certo effetto no? Sentirsi vicini ai grandi Sì, sì, sì poi insomma era tutto molto strano però insomma bello bello, molto bello Sei stato in tournée fra il l'ultimo singolo e questo? Eh, no attualmente è uscito da poco un nuovo singolo che si chiama I Aris questo in realtà è il penultimo Ah, ecco E sono usciti uno dietro l'altro quindi sono molto freschi Sì, sì Ho capito Allora, Aristodemo posso chiamarti così? No, va meglio Aris? Aris, vabbè il mio nome è artistico il mio nome è Aristodemo quindi è lo stesso come preferisci È un nome molto nobile Aristodemo molto ehm ti include quasi un po' di timore No? Timore no, dai Vabbè, un po' di sovranità Sì, diciamo che le persone acculturate riescono a riconoscere questo questo nome gli danno l'importanza che merita insomma è un nome abbastanza importante È un nome importante e tu lo porti naturalmente bene perché stai portando la musica italiana in alto Io cerco di fare il possibile, ecco Tu vivi a Pavia da alcuni anni, vero? Sì, sono praticamente cresciuto qui mi trovo molto bene e sto ampliando il mio raggio d'azione perché comunque sono molto conosciuto nella mia zona e voglio farmi conoscere un po' in tutta Italia adesso E tra l'altro stavo leggendo che appartiene a una famiglia a parte molto numerosa ma tutti con la passione per la musica quindi siete tutti musicisti? In realtà è una cosa molto come si può dire non professionale però la musica ci appartiene mio padre mio nonno addirittura aveva la voce da tenore ma non ha mai studiato ecco E che peccato Eh sì erano veramente dei talenti naturali dove poi hanno trasmesso questa cosa a me e io però l'ho tramutato in lavoro quindi in passione lavoro quindi sono l'unico della famiglia aver fatto questo Ho saputo che hai due figli anche loro sono amanti della musica Sì sì beh vedendo me ehm al pianoforte che scrivo che faccio i bambini si sono molto avvicinati alla musica questo sì Tu sei un cantautore con la chitarra e con il piano Io suono sia chitarra e suonicchio il pianoforte Però componi al pianoforte? Sì mi viene meglio non so perché mi viene meglio poi vabbè sui brani nuovi devo dire che il merito è tutto a Giancarlo Prandelli della Gene Records che lui vabbè è un mostro della musica quindi è lui che poi mi struttura tutta la musicità insomma Ah ecco tu componi e poi passano il rassegno ai tuoi pezzi magari li rettificano insomma li confezionano sì sì no ma anche io do libero arbitrio perché ho una grandissima stima di lui delle sue competenze e devo dire che mi trovo veramente bene poi le mie idee con le sue idee si amalgamano al cento per cento quindi poi vengono fuori delle bombe stiamo leggendo che tu vorresti lanciare il messaggio alle nuove generazioni che vorrebbero vivere di musica ma che purtroppo sono disilluse dal periodo storico in cui viviamo è vero? sì vedo molta gente giovane che per colpa magari dei reality che non riescono a entrare per colpa di disinformazione che c'è in generale magari anche molto talentuosi ma scoraggiati da questa cosa dire ma sì ma cosa faccio preferiscono magari andare in fabbrica a prendere lo stipendio tutti i mesi ecco io credo che non sia facile oggi come oggi vivere soltanto di musica magari no è molto difficile ma bisogna rischiare bisogna essere determinati perché i grossi sogni si fanno solamente per i capardi per le persone che non mollano io io la vedo così cioè non bisogna battersi essere forti e questo è proprio andare con la vita perché la vita vuole persone forti e ai tuoi due figli cosa diresti domani che volessero essere anche loro protagonisti del mondo della musica di continuare oppure di trovarsi un classico sano impiego guarda io non sono una persona che impone nulla i miei figli posso dargli delle indicazioni posso aiutarli in qualche modo a capire le cose giuste dalle sbagliate ma se mio figlio dovesse dirmi voglio fare il calciatore va bene nel senso o voglio fare qualsiasi altra cosa il salumiere piuttosto che non so qualsiasi cosa adesso non mi viene in mente niente però per dire sarei contento di lui perché lui è felice deve fare quello che gli piace loro sono piccoli adesso? sì il più grande diciamo ha sette anni però è già in grado di poter suonare volendo sì sì infatti adesso lui gioca calcio e suonica un po' così la tastiera però insomma da lì a fare una cosa professionale ne passa ancora un po' è per questo che hai detto se volessero fare i calciatori li lascerai fare sì perché è stata la prima cosa che è venuta in mente perché proprio fa quello adesso certo e lo fa con passione? mi piace moltissimo crea squadra crea insomma gruppo ha molti amici questa cosa gli fa bene e poi insomma lo sport fa già parte di un allevamento come si dice sì appartiene a una squadra di calcio qua della zona e poi da qua vediamo un po' cosa succederà e allora vedrai che i maschietti sono molto molto tendenti allo sport in questo caso al calcio in particolare quindi se già è inserito vabbè vorrà dire che giocherà a calcio e suonerà la musica eh sarebbe una cosa molto 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 bella perché sono due cose che fa bene allo spirito all'anima e al corpo umano quindi certo certo abbinarli è potentissimo lo sport e la musica sono le due cose penso che fanno bene all'uomo indubbiamente anche alle relazioni sociali al suo poi svilupparsi nella società invece mi dicevi l'altro più piccolino sì l'altro è una femminuccia ah quindi l'altra sì l'altra ha due anni e mezzo e vabbè ancora piccolina e lei se va avanti così diventa qualcuno veramente perché è di un amore incredibile ah sì quindi già hai visto per lei una futura carriera sì lei è un artista lei è non so se è musicale o o che altro ma sicuramente è un artista ho individuato l'arte in lei in ogni cosa che fa e tu ti ritieni un artista Aris assolutamente ecco questo è bello eh assolutamente perché è come vivi la vita io la vivo veramente a pieno come un vero artista sì sì e poi capito tutte le cose sensibili che ci sono intorno a me e che solo chi ha l'animo sensibile può può avere questa cosa questa capacità e poi sei un cantautore non potresti essere altro che un artista essendo cantautore volevo chiederti di parlare un po' dell'etichetta del produttore e delle persone che ti hanno aiutato nella realizzazione di questo nuovo single e ti stanno aiutando per questo nuovo album sì allora la GN Records è un'etichetta discografica eh bresciana di rilievo eh a capo c'è Giancarlo Prandelli della proprio della GN Records che eh per caso un paio d'anni fa ci siamo conosciuti io stavo lavorando con un altro progetto con Viola Valentino abbiamo fatto un featuring ehm insieme che si chiamava Smeraldo e cioè lei ha cantato un mio brano ha fatto il set sì 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 l'abbiamo sentito sì e e da lì è nata questa boh si può chiamare anche amicizia perché io eh adesso dopo due anni si è restaurata anche questa amicizia con lui e abbiamo un sacco di idee per la i nuovi brani perché tra l'altro voglio voglio anticiparvi che i nuovi brani che usciranno sono veramente eh una cosa fuori di testa belli belli sì sì soprattutto quello estivo eh vogliamo fare il tormentone estivo ma non il classico tormentone estivo ma un qualcosa di differente e quindi ce lo presenterai prima dell'estate sì sì assolutamente ok ti aspettiamo allora ma molto volentieri e quindi stiamo facendo veramente tanto tanto lavoro e alcuni brani tradotti in spagnolo perché come ben saprai eh probabilmente avrò un tour in sud America praticamente stiamo lavorando veramente veramente tanto questo questo sicuramente ti riempirà di orgoglio sì 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 sento che sono sulla strada giusta ed è questione solamente di tempo per veramente poter fare i numeri che io mi sono premesso di fare ma si sente che hai l'energia dentro di di quella persona che eh che comunque sente di farcela questo è bellissimo sì no io sono molto determinato e credo in quello che faccio poi se non ce la faccio perlomeno ho dato il cento per cento capisci perlomeno ci hai provato comunque quello è importante certo certo il cento per cento senti ci sono dei live in progetto abbiamo dei live da definire eh importanti eh tra cui eh anche delle collaborazioni importanti con Alex Britti all'apertura del suo concerto a Roma e sono tutte cose che vanno ancora un po' da definire però insomma qualcosa si sta muovendo oltre che il tour in Sud America ovviamente ecco il tour in Sud America ne parliamo eh ne parliamo in America Latina sì America Latina eh abbiamo la Colombia l'Argentina e il Cile e il Messico per ora e presenterai i pezzi in nella loro lingua nella loro lingua sia in italiano che alcuni in cioè la maggior parte in spagnolo e alcuni anche in italiano perché la musica italiana là è molto molto rinomata sì è molto gradita sì sì bene diamo i tuoi contatti allora a questo punto Aris ti ringrazio allora vi invito a visitare la mia pagina Facebook che appunto si chiama Aris poi ho Instagram che se volete pubblico ogni tanto le mie classifiche e tutte queste cose sempre su Aris Official Music e che dire io vi ringrazio di avermi ospitato nella vostra radio è stato un piacere poi troverai questa chiacchierata naturalmente come sempre sulla pagina Youtube di Radio Incontro e la metteremo anche sul sito dove ci sei tu grazie mille siete molto gentili saluto tutto lo staff di Radio Incontro Grazie il tuo pezzo è in rotazione qui da noi quindi io direi di annunciarlo se vuoi e di ascoltarlo tutto per intero che ne dici? va bellissimo eccolo allora annunciamolo anzi annuncialo tu ok io sono Aris e questo è Noi Siamo Noi grazie a tutti ciao 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 quando due atomi si incontrano si crea fusione delle anime un'essenza di noi primordiale come fossile ma palpabile come seta indenebile d'inchiostro ma tangibile negli astri che si fingono di noi noi siamo figli noi siamo figli delle stelle siamo alieni con il far noi siamo l'angelo caduto sempre in viaggio negli hotel noi siamo polvere di sogni siamo le bolle e lo champagne il bacio di una sola notte innamorati innamorati almeno un po' ho un pensiero un po' con il logico che riguarda te questa notte ci capiamo senza chiederci perché poi ti tengo un po' la mano e cerco di capire che ogni pressione mi racconta la tua vita immagine e poi noi siamo figli delle stelle siamo alieni con il far noi siamo l'angelo caduto sempre in viaggio nel mio hotel noi siamo polvere di sogni siamo le bolle e lo champagne il bacio di una sola notte innamorati almeno un po' noi siamo noi siamo noi non siamo noi siamo noi non siamo noi siamo noi non siamo noi anche negli angoli dei bar anche nei sogni nei tuoi guai in una tazza di caffè o quando spendo un po' la luce si apri la bocca respira a me tocca la luna che tocca a te tieniti forte vogliamo un po' e poi domani non dirmi no noi siamo figli delle stelle siamo alieni con il frac noi siamo l'angelo caduto sempre in viaggio nel mio hotel noi siamo polvere di sogni siamo le bolle e lo champagne un bacio di una sola notte innamorati almeno noi siamo noi Noi siamo noi Noi siamo noi